Regia, riusciamo a fare la... io parto, vediamo se riusciamo... Ecco è lui! Giammar Ducamere! Cioè, voi appassionati di basket, mi potete capire, è sanzionale, è veramente pazzesco. Ho assistito a una gara di schiacciata allucinante, ragazzi è una pigaccia! Cosa? Non lo so, mi vengono qualcosa e probabilmente è un sogno, mi spenderò domani.